E' Ada D'Adamo la vincitrice della 77esima edizione del Premio Strega, con il romanzo Come d'aria, edito da Elliot. Con 185 voti, il libro della scrittrice e danzatrice originaria di Ortona ha trionfato sugli altri finalisti, lasciandosi alle spalle Rosella Postorino, con 170 preferenze per il romanzo Mi limitavo ad amare te, pubblicato da Feltrinelli, Andrea Canobbio, con 75 voti per l'attraversata notturna, edito dalla nave di Teseo, Maria Grazia Calandrone, con Dove non mi hai portata, per Inaudi con 72 voti, e Romana Petri, che con Mondadori ha pubblicato Rubare la notte, che ha guadagnato 59 preferenze della giuria del Premio Strega. E dunque ieri, nella cornice del Giardino del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, la presentatrice Geppi Cucciari ha consegnato il premio postumo alla dodicesima vincitrice donna nella storia del prestigioso riconoscimento letterario, assegnato ogni anno a un libro pubblicato in Italia. Scomparsa all'età di 55 anni dopo una lunga malattia, il primo aprile del 2023, Ada D'Adamo ha saputo della candidatura allo strega nella dozzina del più ambito riconoscimento letterario italiano soltanto l'ultimo giorno della sua vita. A ritirare il premio postumo è stato il marito della scrittrice, Alfredo Favi, impegnato con l'editrice Loretta Santini a promuovere come d'aria racconto straziante, luminoso e bellissimo sulla disabilità, come è stato più volte definito dalla critica. Domenica 25 giugno, nell'ambito della cinquantesima edizione dei premi internazionali Flaiano, il romanzo aveva anche ottenuto il Pegaso d'Oro speciale assegnato alla memoria dell'autrice, che proprio a Pescara aveva tenuto l'ultima presentazione del suo libro e che la presidente dei premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni, ricorda con queste parole. Appena due settimane fa aveva vinto il premio Flaiano speciale di narrativa. Flaiano fu il primo vincitore del premio strega. Sembra una tela intessuta tra i due scrittori, legati da un dramma genitoriale quotidiano, portato avanti con dignità e tanto amore, una sublimazione del dolore. L'ultima presentazione del romanzo come d'aria, Ada D'Adamo l'aveva riservata infatti alla sua terra natale, l'Abruzzo, parlando di sé e della sua malattia, come riporta anche la trasmissione Storie, le emozioni della vita del giornalista Pietro Lambertini dedicata all'eredità letteraria della scrittrice e danzatrice abruzzese. Anch'io volevo ringraziarti Romina per l'entusiasmo con cui mi hai comunque invitato qui, ero molto attenzionata perché ci sono tanti ortonesi e perché questa è stata un'opportunità comunque per tornare in terra ad Abruzzo perché le radici sono radici insomma e quindi era un po' timorosa insomma di questa platea.